Fissato nella sede della regione a Bologna per lunedì mattina prossima un incontro fra l'assessore regionale ai trasporti Alfredo Pere e il comitato Ridolfi, il collettivo che a Forlì si batte per la sopravvivenza e il rilancio dell'aeroporto. Nel frattempo alcuni rappresentanti sindacali si sono incontrati oggi con presidenza e dirigenza SEAF, la società di gestione dello scalo di Forlì, per fare il punto della situazione. Alle preoccupazioni espresse dal segretario generale della CGL forlivese Enzo Santolini, il sindaco Roberto Balzani, in qualità di socio di maggioranza di SEAF, ha assicurato che, pur costretti dal buco di belancio di 10 milioni a congelare gli accordi con le compagnie aeree che dovrebbero sostituire Winjet, le retribuzioni non sono in discussione. All'aeroporto di Forlì lavorano complessivamente circa 200 persone. In SEAF operano una cinquantina di addetti. Il resto si suddivide nell'indotto interno, cioè ristorazione, vigilanza, facchinaggio, parcheggi e altro. A preoccupare i sindacati sono soprattutto la sessantina di contratti a termine. Senzi voli di nuove compagnie aeree a Ridolfi nel 2011, il ricorso all'attivazione degli ammortizzatori è quasi obbligato. Ma la CGL, sempre per bocca del segretario, lancia un messaggio preciso all'istituzione. Deve esserci chiarezza da parte degli enti locali della regione. Ci vogliono responsabilità e lungimiranza. Come sindacati ci impegniamo a seguire logiche unitarie. Noi diciamo che la creazione di una società unica tra gli aeroporti regionali, un'azienda unica con più piste, è la strada maestra. Il dibattito non si fermi al tavolo di Forlì, ma si allargha a Rimini e a Bologna.